vai vai che cazzo c'è che rompe il cavolo madonna chi è? è aperto tu continua a giocare oh ho detto che non mi devi riprendere mentre sto a giocare rottor cazzo fammi finire oh sta buono che qua sono io che comanda hai capito? gli schellè sei comandi tu ma niente ma perchè non vieni qua vieni a mettere seduto vicino a me ti faccio vedere una cosina vieni vieni non aver paura vieni qua ti faccio vedere la cosa tu vedrai questa cazzo di camera vieni vieni che mi fai vedere? qua? mi devo mettere qua proprio? non ti preoccupare è carino eh ma devi stare qua si si fermo guarda non senti niente non ti preoccupare è carino ti faccio vedere aspetta brutto stronzo hai finito di fare il prepotente fa un culo te la tua telecamera guarda quanto mi piace riprende oh mazza ma questo ma che c'è la sghignazza oh beh chi se ne frega io non ho capito perchè ma devo stare fermo qua oh capito è figo sto gioco però ti capirai è figo sembra così vero vero eh si si sembra mazza oh sembra quasi vero è fatto totalmente bene guarda ha i suoi scopi questo gioco ha uno scopo bravo ma non capito perchè devo stare fermo qua tu prova un attimino a zoomare sopra il fucile guarda la guarda bene ma si è fatto bene si è fatto bene guarda un po' no 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 fuori Israel si fa un muoto eva e sfonca il tappeto io vorrei la volevo rocarlo eh ma la famiglia sei ma la famiglia Non tiиной raffreddoni, non tiиной raffreddoni, non ti sottotitoli. che